Il loro compattezza centrale, il loro difensivismo ad altranza, anche i tanti falli che hanno fatto ci hanno sempre spezzato il ritmo, l'azione, quindi permetteva loro poi di rientrare in quelle volte in cui erano scoperti, di rientrare sempre dietro la palla, quindi di ricompattarsi. Lo hanno fatto molto bene, probabilmente qualche ammunizione in più forse avrebbe messo loro nella condizione di non farne ancora tanti falli, invece sono stati bravi anche a non farne magari di estremamente cattivi e quindi l'hanno fatto bene. Dipende da come lo si vuol vedere. Pensando a quello che hanno fatto anche le altre squadre che hanno addirittura perso, viene da dire che l'insidia insomma è sempre forte, sempre dietro l'angolo e non ci si può rilassare e quindi alla fine io penso che comunque è un punto in più della nostra classifica. Grazie 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 Grazie